Una rosa grande, corposa, elegante. Coscienza! Capacità di rivedersi nei contesti del passato. Che fai? Che ne so? Ma mi fai svenire così, ma... Marghè! Oh, Marta, dimmi! Marghè! Marta! Marghè! Oh, dimmi! Vorrei essere te! Qui! O-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Per questo ultimo appuntamento con i video-vlog, perché tra meno di un mese andremo in scena finalmente con 45 giri! E perché teniamo il cappallo? Teniamo il cappallo! Perché il cappallo è male! E stiamo in po-po-po-ro-po! Po-po-po-ro-po! Stiamo già al carico per l'atmosfera! No, a parte gli scherati, siamo un po' scleratine, ma leggermente, eh! Ma tutto è una norma! Tutto è una norma! Ancora teniamo le reddine di tutta la situazione, più o meno! A un mese da 45 giri abbiamo dato qualche piccolissima anticipazione del testo, Ma quello che vedrete in realtà sarà completamente diverso dalla nostra attitudine alla stupidità Vabbè, questo è un altro discorso Siccome so che siete sicuramente chi ci guarderà, speriamo che ci venga anche a vedere Chi sta guardando questo video Vi ricordiamo che dovete assolutamente procedere alle prenotazioni dei teatri Perché quelli si pienano a passate fuori E noi non vogliamo questo! E noi non vogliamo questo! Mai assolutamente! No, mai! Tutti dovete venire a vedere lo spettacolo perché siamo carini, siamo simpatici Poi, bravi! Ce lo direte voi! Vi ricordiamo quindi sabato 16 marzo 2019 Teatro dei Concordi, Acqua Viva E sabato 23 marzo 2019 Teatro degli Arrischianti, Sartiano Le info e prenotazioni sono sotto la locandina in riferimento sui numeri telefonici Oppure www.lavaldichara.it Credo! Comunque dovrebbe essere così! Lavaldichara.it Dovrebbe essere così la mail A un mese da 45 giri è quasi tutto pronto E lo spettacolo è sempre umano, è sempre libero A parte l'ingresso voi lo pagate E' sempre espressione di una vostra libertà anche semplicemente prima una sera Abbiamo detto che è come se fosse una storia raccolta dentro un vinile E l'ascolto di un vinile è un rito E quindi il nostro è un invito a un rito Che non dovete attribuire per forza a una religione piuttosto che a un'attitudine artistica Sarà tutto libero, anche la vostra interpretazione dello spettacolo potrà essere completamente libera E soprattutto il vostro impegno nel sapere di dover stare attenti a qualsiasi parola che verrà detta su quel palco Perché le parole in questo caso sono fondamentali Però non è questo quello che volevo dire Perché non è mai questo quello che volevo dire Perché non è mai questo quello che volevo dire Cazzarona 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 NoiSternando Può vi chiamare pure di notte E poi di notte che quelli vi rispondono Noi ci vediamo tra un mese Non ci vediamo dentro uno schermo Ma spero di vedervi tra il pubblico che assisterà allo spettacolo in entrambi i teatri oppure in uno solo Se vi piace potrete venire anche le sere dopo quindi da noi è definitivamente tutto ci vediamo il 16 marzo al Teatro dei Concordi e il 23 marzo al Teatro di Areschianti